Per facilitare e rendere più spedito lo scarico del petrolio grezzo dalle navi cisterna, è in funzione da alcuni mesi nel bacino 28 ottobre del porto di Genova, uno stabile olio d'otto. Collegata mediante speciali raccordi, la nave all'imboccatura di esso, il prezioso liquido viene pompato direttamente ai serbatoi di carico, che ne costituiscono il primo deposito, in attesa che le grandi autobotti lo trasportino alle raffinerie. Grazie